E' un'epoca di un'epoca di un'epoca. E' un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca. E' un sesso Braille. Dovrei fare la denuncia del morto di mia madre. Abbastanza più avanti, signora. No, lo so, guardi, ci sono stata adesso, però non c'è nessuno. Sarà morto pure lui. Questo mese mi hai dato il soldo in ritardo. Io faccio i salti mortali, ho il doppio lavoro. Non basta mai. Ci vorrebbe il terzo, il quarto. Ho il consiglio. Tu non vieni a casa. Divorso è per quelli ricchi. Ora potete tracere. Chiocca! Chiocca! Saravano prima. Nicola, i soldi per la spesa mi servono. E che ti pericolo? Non sono scazzato la minchia di lavorare solo io. Hai un figlio di vent'anni che non fa una minchia da mattina a sera? C'era un corpo sbattuto per terra, mi pare. 200. 220. Cerchi di formulare meglio le sue affermazioni. La sua parola qui diventa un atto. E che c'è venuto a fare qua a Siena? Siena è la città ideale. Anche Baternò non è male. Si sente una parola, poi un'altra. E' da di darsi una spassa. Che cosa hai visto prima di essere colpito? Concentrati. Michele. Signor Gassadonia. Michele. Dati una lezione. Danny! Bondage. Dimmi Bondage. Ma chi è? Chi è? La conosco. E a proposito di cena? Ovviamente giapponese. Ma tu hai capito chi sono io, eh? Hai capito chi sono io? Io non sono Dennis Rufino, io mi sono reincarnato. Ozzone, dammi la mano, Ozzone. Non voglio morire. Muni dopo, cretino, dammi la mano. Gli sfiorati possono attraversare delle cose meravigliose o anche cose terribili. Cose che magari gli altri nemmeno vedono. Ma che vuoi? Ma perché mi hai baciato? Ma chi ti conosce? Ma cosa è da questo? Paura. Amore. Amicizia. Tradimento. Verità. Tutto dipende dal destino. Alla. Alla. Dov'è? Dov'è? E come quando resti con me. E' fuori un giorno fragile. Ma tutto qui cade in piacere.